Va con il passaggio corto, Roberto Baggio, va via in dribbling, riceve in ottima, ecco il tiro, eccola la rete! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Pazzesco, il tiro aveva un effetto pazzesco! Che tiro pazzesco, ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida, la messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Il mister starà ridendo sotto i baffi, la sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Grazie per la visione!